Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi A Risolto Giallo! Et voilà! Nuova puntata di Risolto Giallo, benvenuti, bentornati da Alessia Sorgato E bentornati anche da Nicolò Mazzavillani, vediamo di fare in fretta perché Io e Alessia Sorgato stavamo parlando dei fatti nostri e mi ha raccontato di una cosa che le è successa Io voglio sapere come si sviluppa, quindi vediamo di muoversi Magari facciamo fare un'investigazione a questo signore! Eccolo finalmente! Finalmente Lorenzo Sartori è qui con noi, ciao Lorenzo! Ciao, ciao! Benvenuto! Grazie! Non è facile invitare Sartori perché è uno scrittore e lo vedete Ma è anche un sacco di altre cose e mettergli il sale sulla coda Non è proprio facilissimo, vero Lorenzo? Tanto per cominciare, che cosa hai appena terminato di bello nella tua vita? Ho terminato un festival in Chiostro, un festival letterario che si tiene crema mai da cinque anni E niente, è stata una grandissima fatica ma è andato tutto bene È stato un bel festival, abbiamo avuto più di cinquanta scrittori, ospiti, 35 eventi insomma È una cosa abbastanza impegnativa Cinquanta scrittori in due giorni? In due giorni e una serata Complimenti! E tu te li sei intervistati tutti? No, tutti no Assolutamente no Ok, allora intanto ci candidiamo per dare una mano l'anno prossimo Perché oramai ci divertiamo un sacco anche ad andare in trasferta Gli scrittori si divertono quando siamo Diciamo talmente tante cretinate a cui non sono preparati Che si divertono per forza Allora, brevissima anticipazione nelle mani del nostro Nick Per presentare un po' te stesso E poi cominciamo a parlare di loro Esatto, la prima domanda è Chi è Lorenzo Sartori? Allora, è una domanda un pochino complicata Perché faccio un po' di cose Ma siamo testi ragazzi No, la domanda è più difficile questa No, sono giornalista, sono game designer Game designer? Sì, mi occupo di giochi di simulazione con miniature Regia, guarda Mazzavillari Con miniature Quindi ricostruzione di battaglie con soldatini Dette in modo... Che figata È la prima volta che abbiamo un game designer Siamo al turpiloquio Mazzavillani, dillo meglio No, è bellissimo È la prima volta davvero che abbiamo un game designer qua con noi Una cosa molto nerd Ma cos'è? Mi spiegate? Lo spiegherà lui La ricostruzione di battaglie storiche utilizzando soldatini alti due centimetri più o meno Cioè l'Enrico lo faceva da bambino Anche io lo facevo da bambino Poi come dire, questo è invece un gioco da adulti Anche perché ormai i bambini non giocano più a soldatini Quindi è così È un hobby anglosassone È nato in Inghilterra Si è sviluppato nei paesi anglosassoni Ma come Dungeons & Dragons? Dungeons & Dragons è un gioco di ruolo Tecnicamente potresti non avere le miniature No, può essere tutto diciamo parlato Perché mi ricordo anni fa che i miei amici andavano a comprarsi Sulle schede Invece i giochi di cui mi occupo io si giocano su un plastico Ah, che sono bellissimi Non a computer No, no, no Oh, c'è la tridimensione La tridimensione C'è tutto il lavoro modellistico di dipingersi soldatini Di collezionarli Io ammetto di averci provato a mettere mano una volta Avevo comprato dei modellini da italieri Mi ero anche messo lì di buon guzzo a provare a dipingere E' devastante Non c'è riuscito Ci vuole tantissima pazienza Tantissima pazienza, calma Perché poi io quando li vedo impazzisco Perché sono dipinti poi tutti a mano E c'è una cura nei dettagli E tu sei il disegnatore di questa cosa Io invento i giochi Cioè come poter giocare Non so come poter giocare una battaglia dell'antichità Non so di Alessandro Magno contro i persiani O di Napoleone O la seconda guerra mondiale Nel senso che sapendo come è andata veramente la battaglia No, io sviluppo dei manuali Che ti spiegano come le unità muovono sul campo Come combattono E quindi sostanzialmente è una simulazione Quella che fai, è un gioco soprattutto Di strategia Di strategia Ma è fantastico È un qualcosa di molto più evoluto diciamo del risico Però sostanzialmente siamo Quest'uomo ci legge nel cervello Perché mentre diceva così A me tornava in mente un mio compagno di università Ciao Fabio Il quale sul primo risico Aggiunse Perché non gli bastavano le regole del risico Aggiunse la bomba atomica Che era il tappo del tratto pen Non il tappo di bottiglia Il tappo del tratto pen Che un po' c'è la forma di un ogiva da bomba Poi aggiunse le fabbriche belliche Giustamente se tu bombardi le fabbriche belliche Quelli non producono più niente E poi aveva fatto la nave che collegava l'oceania Che sennò era sempre da sola Poi è arrivato il risico 2 E c'era buona parte Domanda Riuscivate mai a finire una partita Era molto più difficile così Però è anche vero che con le fabbriche belliche Una volta annientate quelle La risposta è no Comunque Che meraviglia Tornando a Lorenzo Sartori Già questo è interessante Ma da sempre fai questo mestiere? Da 25 anni Siamo avuti la passione da bambino Per i soldatini Collezionati un'infinità Molti li ho ancora L'età dell'adolescenza ho abbandonato E poi verso l'età dell'università Ho ripreso questo hobby Che poi nel tempo è diventato un lavoro Ma se volessimo Scusa Nic Ma se volessimo comprarne o regalare Per esempio all'Enrico Allora io non produco soldatini Io produco tra virgolette il software Ma non era tridimensionale? Sì Ma io ti spiego come si gioca Io ho delle pubblicazioni Che ti spiegano come giocare Ho una rivista specializzata Delle pubblicazioni Ecco noi questo vogliamo sapere Ci sono quelli che vendono i soldatini Quelli che ripieni No d'accordo Ma qualcosa che porti la tua firma La rivista che pubblico È una serie di regolamenti Che sono anche tra l'altro tradotti in varie lingue Titolo della rivista Titolo della rivista Dadi e Piombo Dadi e Piombo Dadi e Piombo punto it Sul sito E da lì c'è tutto diciamo La mia produzione Dadi e Piombo Bellissimo E come sei arrivato Poi vabbè hai detto Fai anche il giornalista E come sei arrivato poi a A scrivere romanzi gialli? Sostanzialmente per saturazione Da questo mondo Che è un mondo che era Come dire Una passione Che è diventato un lavoro Ma che a un certo punto Ti satura anche E quindi ho avuto bisogno Di mettermi a raccontare Di passare dalla storia Con la S maiuscola Alle storie Con la S minuscola E di raccontare storie E quindi di Crearmi comunque Un'alternativa Indirizzare un po' Le mie creatività Anche in qualcosa Di diverso E quindi quando arriva A livello di saturazione A un certo punto In cui un pochino Hai bisogno proprio di Una valvola di sfogo Sì E quindi sostanzialmente Il primo gennaio del 2013 Cioè esattamente Il giorno dopo La fine del mondo Ho iniziato a scrivere Il mio primo romanzo E da lì non l'ho più smesso Allora Allora Vediamo a Mentre tu fai domande Io spulcio qua Da di piomba Allora Vediamo a loro Ve li faccio vedere In ordine Di apparizione Filo sottile Di Arianna Priquel Milano Grigioferro Storia attuale Cioè quella che è uscita adesso Fra loro Nessi Molti Richiami Qualcuno Personaggi Sostanzialmente Medesimi Con ruoli Però Diversi Io mi concentrerei Sui due Basilio E Viola Chi sono Come si incontrano Qual è il loro Piccolissimo Squarcio Di passato E che cosa succede Nell'uno E nell'altro romanzo Quello che si può dire Quello che si può dire Autogestito Quello che si può dire Allora partiamo da Andrea Basilio Che è Ufficialmente Il protagonista in carica Andrea Basilio È un Ex ispettore di polizia Che ha buttato All'ortica La sua carriera Per via Diciamo Da un lato Del suo carattere Molto impulsivo Ma anche Dal suo senso Di giustizia Quindi non è uno Che si ferma Di fronte Magari A certo tipo Di complicazione E quindi Insomma Si è messo Di traverso Con il suo capo Chi leggerà Il primo romanzo Capirà Il come Ci è arrivato Non potrà Che dare ragione A nostro Andrea Basilio Ma insomma Tant'è che La sua carriera È andata A carte 48 E quindi Dopo un periodo Di crisi Si è reinventato Come fanno Molti Ex poliziotti Si è reinventato Come Investigatore Privato Tra l'altro Sul suggerimento Del suo avvocato Divorzista Che vedendolo In crisi E avendo un figlio Nulla facente Ha cercato Di fare uno più Uno Ha detto Tu Andrea Ha le carte Regole Per prendere La licenza Di investigatore Privato Perché sei un Ex poliziotto Un ex ispettore Capo di polizia Mio figlio Zero Non ci avrebbe Neanche la voglia Però potresti Insegnare Il mestiere A mio figlio Noi siamo Uno studio legale Ci farebbe comodo Avere un'agenzia Investigativa A cui appoggiarci Nasce così La A e B Investigazione Dove A sta per Identica Il cognome Dell'avvocato Nonché del figlio Marco Dell'avvocato E B invece Lui purtroppo è B Di Basilio Che è vero che potrebbe essere A come Andrea E B come Basilio Visto che fa tutto lui Esatto Alla fine fa tutto lui Perché alla fine È lui che ha Un mutuo da pagare Una figlia Preadolescente Da mantenere Insomma È lui che Che fa il lavoro sporco Viola Viola Lombardo Appare nel primo romanzo Come diciamo Si inserisce Nelle indagini Se vogliamo Nel caso di Andrea Basilio Non entro nel dettaglio Perché penso Che sia interessante Capire un pochino Come Viola In qualche modo Entra E invece nel secondo Quindi è un personaggio Importante Nel figlio Sottile di Arianna Ma è anche un personaggio Secondario Però sentivo la necessità Di raccontare molto Di più di Viola Perché io credo Che la serialità Ha senso Nel momento in cui Tu hai ancora Molto da raccontare Sui tuoi personaggi C'è una volta Che hai raccontato Tutto dei tuoi personaggi Se si tratta solo Di inventare Un nuovo caso Vabbè A questo punto Inventa anche nuovi personaggi È molto più stimolante Se invece il punto di partenza È quello di Voler raccontare Di più Dei personaggi E il caso È se vogliamo Un pretesto No? Per metterli alla prova E allora Secondo me La serialità Ha senso Questo ovviamente È il mio Modesto punto di vista Sono d'accordo E non l'hai fatto Soltanto con Viola Anche A Denti Junior Anche a Denti Junior Si ritaglia Il suo spazio Infatti la richiesta In molti lettori È che sul terzo Si aspettano Come dire È un ruolo Ancora più importante Di Marco A Denti E farò Il possibile Per dargli Questo spazio Ci sta Come si è arrivato A Perché forse L'hai detto Non lo so Stavo guardando Dadi Ma la vuoi dire Nell'orrecchio Se l'ho detto No Volevo Volevo sapere Come si è arrivato A A creare Questo protagonista Andrea Basilio Se Se lo conosci Ti sei ispirato A qualche A qualche persona Che conosci Oppure È tutto frutto Della tua Della tua Sì Almeno a livello consapevole È frutto Della mia fantasia Poi insomma I romanzi Filtrano Tutta una serie Di situazioni Di persone Che magari Si incontrano In qualche modo Ci finiscono Dentro Però il punto Di partenza In questo caso Nel filosofo di Adriana Era soprattutto La situazione Io volevo Un pochino Giocare Con la tipica Situazione Dell'hardboil Dove c'è L'investigatore Privato E la femme fatale Che si presenta In agenzia E da lì Iniziano i casini Per l'investigatore Privato Sostanzialmente Io volevo giocare Con quello che è Un incipito Abbastanza classico Però volevo Fala a modo mio E volevo Anche un attivino Scardinare Quelli che sono Un po' I certi luoghi comuni Dell'hardboil Che comunque è un genere Letterario Di tutto rispetto Ma che ha avuto Diciamo la sua età d'oro Quindi l'Andrea Non è marcio Di alcol e fumo Non è marcio Di alcol e fumo Anzi Andrea Pieno di debiti È l'uomo comune Andrea è veramente L'italiano medio 39 anni Divorziato Una figlia Preadolescente Non ha Dei particolari eccessi Non ha Delle particolari qualità Se non quella Ovviamente Della testardagina Della determinazione Ma quella è una caratteristica Di tutti gli investigatori Perché altrimenti Ci si fermerebbe Dopo due capitoli E quindi Volevo raccontare Alla fine Una persona normale Con le difficoltà Della quotidianità Perché a mettere in crisi Ander a Basilio A volte più che Come dire I brutti incontri Che può fare Nella sua attività Professionale È proprio la vita Di tutti i giorni Il cosiddetto diritto Di visita Per i papà separati Cioè quando hanno La figlia a casa La figlia La figlia Camilla Che gli capita Immancabilmente Tra i piedi Quando c'ha Il caso Un po' importante Che lo fa ancora sentire Poliziotto La ex moglie Che lo cazza Appena può Insomma È l'italiano Medio No fa morire da ridere Nicolò È un classico La vita personale Del Basilio È scandita Esattamente Sui colpi Di scena Di scena Della trama E c'è Sta povera Camilla Che è la bambina Ragazzina Che viene parcheggiata Di qua Perfino con Marco Adenti A un certo punto La deve lasciare Che probabilmente È l'ultima persona A cui vorrebbe lasciarla Quella di cui Meno si fida Il nostro Basilio Eppure è costretta Gli tocca Tra l'altro poi Il filo sottile di Arianna Vincitore premio Nebiagialla Nel 2020 Esatto Complimentissimi Grazie Peraltro perché Nebiagialla Si sa essere Un concorso Dove hanno Partecipato Eh Roversi Qua Insomma è un po' Un'icona Sì Anzi qua non l'abbiamo Ancora potuto invitare Perché non sappiamo Neanche come fare Francamente Anzi Ti accettano Con sogli Ti passo il contatto Ci passi i contatti Viene Viene sicuramente Un libro appena uscito L'altra domanda Che volevo farti Lorenzo È come ha fatto Alessia a portarti qua Perché lei Di solito Tampina Veramente Vediamo cosa risponderò Allora Alessia Tampina Finché non ottiene Un sito Siamo amici su Facebook È già qua E mi Mi scrisse Mi ricordo In un'occasione Di un paio di inchiostri Fa No Ma avevo già chiuso La programmazione Non avevi già chiuso Il contatto con lei Esatto Avevo già chiuso La programmazione E avevo detto Dai sentiamoci Per l'anno prossimo E l'anno prossimo Lei mi ha chiamato Ma mi ha chiamato Per non proporsi Ma per Per farlo venire qua Per farmi venire qua Anche l'esorgato E tu hai accettato subito Ti ho detto Guarda Basta che sia dopo inchiostro E riprenda Come dire Le mie capacità Minime cerebrali E vengo volentieri Neanche troppo Non c'è un'altra Non c'è un'altra cosa Non c'è un'altra cosa Non c'è un'altra cosa Lorenzo Guarda è molto È molto presente sui social È molto ecumenico Scrive pubblica No no è una persona Gradevolissima E è qualche cosa In più Regia ci sei Perché Ok Allora Signori Non è mai stato fatto A nessuna puntata Di risolto giallo Che paura Questi due E probabilmente Passerà molto tempo Prima che venga rifatto Cioè Devo leggervi Una frase Non lo facciamo mai Lorenzo Guarda cosa mi fai fare Ma te lo sei Strameritato Siete pronti? Vado E chi ci segue Da qualche tempo Sa benissimo Quali sono i miei Jump scare Come ho imparato Da un altro autore E da Mazzavillani Pronti? Allora abbiamo Viola Che va nella casa Di un Miliardario E Vuole Dar Un po' Un'occhiata in giro In particolare Ha bisogno Che le vengano fornite Delle informazioni Utili alle indagini Per cui si presenta A casa Di questo tizio Lui la riceve In accappatoio Sbuffa Molto accigliato Ma lei Non si dà per vinta Tant'è vero Che Gli chiede Che cosa? La lista degli invitati E lui Le risponde Ascanio Si chiama lui Le risponde Non ha una lista Degli imputati E anche se L'avessi Non credo Gliela darei Senza un mandato Jump scare Viola Si alzò Aveva compreso Che quella chiacchierata Era giunta al termine Dopotutto Non vedeva l'ora Di trovarsi fuori Di lì Virgolette Farò in modo Di avere Quel decreto Signor Bonfanti Mi alzo I miei complimenti Lui chiede il mandato E lei Gli risponde Mi farò Fermare Dal giudice Il decreto L'ha detto Giusto Grazie Perché il mandato è americano Però visto che c'è una laurea in giurisprudenza L'ho sfruttata Io ti ringrazio Mi ammazzo Prima mi ammazzo Poi ti ringrazio Lorenzo Finalmente Hai la laurea in legge Grazie Grazie A nome di Risolto Giallo Dell'assorgato Perfino di Mazzavillani A nome di tutti noi Grazie Perché non solo Non hai messo il mandato Ma l'hai messo E gli hai messo anche lei Che lo Corregge Sei un grande A te l'ospite Io sono felice così Prossima domanda Che è l'ultima Che è l'ultima Che è l'ultima Sì assolutamente Tu vivi a A crema Lorenzo Però comunque I tuoi I tuoi racconti Avvengono nella città di Milano Che Milano è quella Nei tuoi romanzi Allora innanzitutto Vi piace Milano Perché è una città Che può mostrare diverse facce A differenza di Alcune città Che sono un po' più Iconiche E quindi di sotto Vengono sfruttate Per quell'immagine O limite Un'immagine alternativa Contrastante Milano ha tante facce Tante sfumature Quindi è perfetto Per raccontare Il grigio E le zone E le zone intermedie Non racconto Un quartiere In modo particolare Di Milano Alcuni ritornano Perché comunque Basilio abita a Corvetto Abita In via Polesine Tra l'altro Stavo comprando casa In via Polesine In via Polesine Ha l'agenzia Live Investigazione Che è in Porta Romana Via Le Caldara Quindi la zona Un pochino tra Porta Romana E Corvetto Viene magari citata Più 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 Spesso Però Mi piace Sfruttare Proprio questi romanzi Per raccontare Alcuni angoli Alcuni angoli Della città Alcuni quartieri In modo abbastanza Anche random E quindi fare un pochino Camminare Che gli fa bene Al nostro C'è un vestino Tra l'altro A Basilio O cammina O si muove giusto Con la sua Con il suo scuterino Che è abbastanza provato Diciamo Dalle sue Dalle sue imprese Nel traffico milanese E È una Milano Mi piace raccontare Quella Milano Che Che si vede No? Che è la Milano Che può vedere chiunque Abita a Milano Chiunque venga a Milano Per lavoro Per studio O per turismo Poi c'è una Milano Che è nascosta Quella a volte Dei Bassifoni Che è la Milano Che come dire Magari non vedono tutti Grazie a Dio E E poi c'è la Milano Invece Quella della Upper Class No? Quella della Scania Bonfanti Che abbiamo citato prima Che anche quella Che anche quella Si vede poco E di solito Questi due mondi Non sono poi così Quello della Della malavita E quello Invece che sta in alto Non sono poi così In realtà Lontani Ultima domanda Prima di salutarci Ma il fotografo Di Milano Grigioferro Matteo Carbone Lo conosci veramente? No Ah perché guarda che esiste Lo so Ci ho fatto il corso Di fotografia io L'ho scoperto dopo Che c'è un fotografo Di nome Deo Carbone E ho utilizzato Suonava bene Si vede che mi è suonato bene Matteo Ti rendi conto? Un omaggio Glielo portiamo Perché Matteo è simpaticissimo Ed è un bravissimo fotografo Matteo Ti ha fatto ammazzare Vabbè Bando alle ciance Stai scrivendo? No Però un inedito Già pronto E Questo turno Penso che Dovrò rimettermi Un pochino A scrivere C'ho tante cose Che mi frullano la testa Sicuramente Una delle prossime cose Che dovrò scrivere È un racconto Con Andrea Basilio Perché Laurana Nella sua collana Calibro 9 Intenzione di fare Una raccolta Con i personaggi Poi protagonisti Dei vari romanzi Quindi Sicuramente Tornerò Abbastanza A breve giro A raccontare ancora Di Andrea Basilio Carina Il numero da collezione Esatto Direi che Purtroppo Siamo arrivati Alla fine Di questa puntata Di Risolto Giallo Da Nicola Mazzavillani Alessio Sorgato E Lorenzo Sartori Lorenzo Sartori Vi auguriamo Buona serata Ciao Di Giallo Nella vostra vita E quanto c'è di Noir Nella vostra vita milanese Scopritelo con noi A Risolto Giallo